Anima bella, buongiorno! Ed eccoci qua per il messaggio della tua nuova felicità di oggi. Il messaggio della tua nuova felicità di oggi è la tua guarigione personale e familiare avrà un effetto anche su tutta la tua famiglia perché è una guarigione dalla tua famiglia, con la tua famiglia e per la tua famiglia. E quindi avrà un effetto sia retroattivo, cioè su tutti i tuoi avi, sia in maniera futura, cioè sulle generazioni future. Ora, vediamo un attimo perché tu sei chiamato a questo compito importante. Allora, la maggior parte delle persone rifiuta determinati tipi di emozioni, come anche la sofferenza, lo stress, la paura, la rabbia, no? Ma queste emozioni non sono altro che un messaggio importante e profondo per portarti verso la tua guarigione, verso la tua evoluzione. Quindi, cara anima bella, sei chiamata tu, cioè se tu stai vivendo questi tipi di sensazioni, sei chiamato alla tua guarigione che avrà, ripeto, un effetto in modo retroattivo su tutta la tua famiglia e anche in modo futuro, cioè sulle generazioni future. Pensa che bello, tu sei l'unica persona chiamata, grazie al fatto che c'è questa chiamata da parte delle tue emozioni, a guarire te, la tua famiglia e anche il mondo, perché i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni hanno un effetto anche sul mondo. Quindi, oggi, ricordati che la tua guarigione personale e familiare ha un effetto anche su tutta la tua generazione familiare e anche sul mondo. Un abbraccio, ciao e guarisci perché te lo meriti. Ciao!